e per gentisti buonasera nasce da giove da qui viene giovanni che perché è tondo salutiamo le persone formate di questo canale formate formose quindi è giovedì oggi è il giorno sul nostro canale della mia prova i video che ci mandate voi a marco chioccio al sempre 100.org via we transfer e questa sera vediamo il video di piccola della valcamonica ovviamente l'ha fatto in verticale come si richiede brava ci abbiamo messo due mesi a fargli capire di farlo in orizzontale questa rubrica no 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 però una volta mentale no orizzontale si pensa quant'è bello no gaia l'orizzonte magari io ce l'ho detto quindi andiamo col video di nicola nicola prego regia un saluto a tutti i 6 percentisti ciao mi chiamo nicola sono in alta valcamonica in provincia di brescia vicinissimo al famigerato passo del mortirolo vicinissimo al passo del stelvio e anche al passo del bernina in svizzera quindi un paradiso per le due ruote di passaggio e come credo quasi tutti gli arzilli quarantenni come me ho iniziato la mia carriera motociclistica intorno ai 14 anni con i vari motorini nel mio caso un malaguti crosser cinquantino blu metallizzato bellissimo per passare poi a un aprilia sr 50 poi intorno alla maggior età con le moto un po più serie con una mitica o mitologica aprilia rs chesterfield 125 stupenda che purtroppo demolito in un incidente stradale sostituita a sua volta da una casiva mito gialla bellissima anche al ducati 916 anche essa purtroppo demolite in un incidente stradale quindi la mia prima fase di carriera motociclistica è stata un po un po turbata dopodiché sono passato per tanti anni a una suzuki sv650 finché ho conosciuto la mia attuale moglie e sono passato con la 1150 r la famosa mucca che ho venduto quando è nato il mio secondo figlio e ho terminato la mia prima fase motociclistica dopodiché come tutti i vizi prima o poi ritornano e ora vi presento la mia attuale compagna a due mi fermo perché è bellino che ci racconta la sua storia mi piace e adesso però visto che hai fermato giusto in questo momento qua ora voglio vedere facciamo un toto un toto modo può avere potrebbe essere capati a noi due gruppo l'abbiamo capitolo e gruppo ma la moglie ma non ha smesso di andare in moto con la moglie dopo il bambino la voglia non ci va più in moto dove è molto da solo però ha preso una cosa comunque potrebbe usare anche con la moglie ktm 1290 no ma io rimango su io ho paura che abbia fatto da cazzare secondo me secondo me ha preso una roba tipo strom mille una roba del genere secondo me invece lui è da 3 se no vediamo andiamo avanti con il video è un nevada anche la ripresa state zitti metto play classica moto italiana per eccellenza e questa è una nevada 750 immatricolata nel 2009 comprata da me l'anno scorso nella mia attuale seconda fase motociclistica mi sono avvicinato al marchio guzzi dopo essere stato titubante anni fa quando vi dicevo avevo comprato la 1150 r di bmw per le solite chiacchiere da bar che sono moto che si rompono che ti lasciano a piedi critiche non è vero niente sono tutte balle non è assolutamente vero questa è una moto semplicissima voi non avete avuto un 65 neti se l'aveste avuto lo sapreste anche voi secondo me ragazzi noi non possiamo finire una puntata senza che noi nomini il mondo guzzi più 65 comunque inizio la fatta bella c'è tanti e poi sapete che a me i casto non piacciono più da quando sono 16 anni questa è bellissima è veramente bella le gomme contigo ma con la scritta bianca se ne fa certo sì che la sella non è originale non ha ovviamente niente di particolare che si possa rompere non esiste abs non esiste nulla cosa deve avere c'è l'impianto elettrico che fa andare di fari le frecce e poco altro non è che c'è tanto più da fare è una moto che si fa godere però in viaggio io non non l'avrei mai detto è una custom io non vengo dal mondo delle custom ma in realtà poi quando si porta in strada si fa guidare come una naked anche se ovviamente i cavalli sono quelli che sono sono 47 cavalli non è una moto fatta per volare per dire qualcosa lui dove il figliolo il secondo non è rimasto si è tranquillizzato parecchio dove il figliolo ci fa di interrompere il video per cosa volessi dire anch'io dopo il secondo personale ho comprato quattro volte io lo volevo essere ripetrata davvero la moglie ormai la lascia a casa figlio ripetrata e boh via posso raccontarmi una cosa su nevada? no dai che fai la base è comune con il b65 è stata la prima volta che ho guidato nella mia esperienza moto ciclistica la prima serie non questa perché mi babbo la vera è nevada, blu va bene allora se non mi piace no scusa siete invidiosi della mia storia moto ciclistica grazie Gaia quindi dicevo a mio padre quando compiui 50 anni comprò il primo nevada moto prima che colore va bene andate tutti in quel posto e andiamo avanti a Mandello dell'Ace riusci a tirare al collo 140 a 150 all'ora ci arriva anche lei tranquillamente però non è fatta per andare a quelle indattature è una moto fatta per camminare tranquillamente intorno ai 110 100 110 km l'arri ma meglio però non l'aveva sentito nessuno fino a quando non hai detto Gaia fai i rutsi ho il singhiotto sto cercando di ma è il digestivo salutiamo a Mandello dell'Ace sto cercando di trattenere l'aria per farlo passare ah va bene non trattenere mandalo pure fuori le statali tra i 70 e i 90 veramente la si gode con quelle belle vibrazioni che solo un motore del genere può dare come quindi parafrasando quel famoso svizzero può accompagnare solo e altre modifiche che sono state fatte da me perché il vecchio proprietario aveva il parabrezza originale guzzi che però a me sinceramente non finiva di convincermi di convincermi di questo mini cupolino preso da Aliexpress pagato veramente una stupidata e ho modificato la parte anteriore eliminando quei due coinvogliatori d'aria cromatica con il calore delle teste qua sopra andavano a rovinarsi infatti quando guardavamo la nevada con marco d'alicolo delle marche dicevano ma guardate questa moto con poco poteva essere un 8800 però lui infatti ha tolto quelle parti brutte davanti guarda che carino e bravo perché ha fatto una bella moto molto bella senza stravolgerla ma dopo 25 mila moto c'è occhio ma poi non è che ogni cosa che devi dire che devi stare zitti come spesso in caso sono questi due pezzi recuperati praticamente dall'anniversario rendendola forse un po' più moderna come linea oltretutto il vecchio proprietario oltre aver fatto rivestire la sella in questa maniera ricordando un po' ragazzi quando si guarda i video si sta zitto mi sembra ad essere all'elementare ha detto no da basilari che non abbiamo sentito perché tu stavi parlando noi l'abbiamo sentita sei tu che ascolti lei cioè lei le interrompe ed è colpa mia capito è fantastico però posso dirvi una cosa secondo me il portapacchia non è originale no a me non piace la valigia no attenzione anche io sarei propenso a dire così inizialmente però ragionandoci guarda che non sono male perché sono bucciate guarda come aspetta ci ragiono non mi piace sono le valigie originali che metteva la guzzi su questo tipo di moto ma queste sono fatte dall'epco and back cioè le originali guzzi erano marchiate guzzi fatte dall'epco and back a me piace la sella è bellissima ragazzi guardate che bella le riprese sono fatte belle con il serpatorio così nero meravigliosa di California che mi sembra la classic si chiama adesso non so di qualche anno fa ma non sono effettivamente un grandissimo esperto di moto guzzi ha fatto montare questa coppia di scarichi della nel senso che farvelo vedere della mistra che sono solo lei valgono veramente il prezzo del biglietto perché già il motore guzzi comunque ha delle belle vibrazioni un bel sound tipico vengono amplificate ulteriormente da questa coppia di scarichi è una moto che la gente si gira comunque a guardarla perché nonostante gli anni è una moto eterna guardate che linea stupenda nel calco il serbatoio a goccia si fa appunto come ho detto guidare oltretutto come una neanche sorprende a volte quanto scende in piega perché io saltuariamente anzi più che saltuariamente molto spesso succede che vado a toccare in terra il cavalletto centrale che purtroppo in me è orrendo è fatto per far passare uno scarico ben più grosso però quando ci si trova fermi in garage a fare qualche lavoro effettivamente viene viene molto comodo e quindi me lo tengo lì anche se piegando a sinistra tocca giù spesso e volentieri e quindi non ci si può fare nulla manca in questo momento il bauletto posteriore di Epco e Becker che a meno che devo fare viaggi dove devo caricare roba sinceramente sta bene in garage perché esteticamente come tutti i bauletti posteriori è orrendo forse su questo un po' meno di altri quindi sempre il centistono riscausa ha la coppia di valigie ovviamente di Epco e Becker che era il fornitore di Moto Guzzi e un'ottima azienda tedesca di questo genere di prodotti e adesso se riusciamo vediamo se parte il primo colpo perché comunque è sempre una Guzzi qui siamo in pieno inverno la moto adesso è già un po' calda però non caldissima vediamo se riusciamo a farla partire facciamo anche il soundcheck vediamo un po' ci proviamo finiamo ok ci siamo partita rombo tipico Guzzi ovviamente come vi dicevo ho criticato questa cosa di miscare chi va di pandello non il b-60 si fa sentire mille idrocaste anche se non si può ovviamente fare eliminare i DB killer qua ci arrestano subito l'ho fatto solo una volta per rimetterli perché il rumore è veramente bello è veramente invasivo Marco si va già più che bene quindi esattamente come dite voi con estremo disappunto vi saluto da questo piccolo angolo delle Alpi grande e vi porterò sul canale prima o poi la prossima moto che non è mia ma è la moto di mia moglie anche se lei non ci dire il modello è molto amante di quel marchio notissimo americano che fa custom ma come penso il problema di tanti è difficile potersela permettere però pochi costi d'acquisto india e lei ha una motoretta interessante bicilindrica 300 di cilindrata con un motore V-twin benda di Keyway che si chiama benda e la V-302C che magari se mi sarà piaciuto questo video vi porterò vieni 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 manda manda ad iscriverla ciao a tutti ciao Nicola ciao Nicola grande bellissimo bravo bravo lui bella moto video fatto bene comprimenti contatti ma è la prima ne vada è la prima ne vada se si mi ha già fatto tipo 2 o 3 v85 ma è la prima ne vada io mi sono emozionato per la motella moglie venda 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 che cos'è no venda venda la venda con gli occhi quando sei giù alla mosca cera qualcuno la venda per favore tra l'altro cosa vorrà dire in cinese venda prima le mani il voto a questa moto la vogliamo non la vogliamo la vogliamo la verità è che io la voglio 3 su 1 quindi passa quindi passa possiamo comprare le palettine con i voti con l'olino 6% si fa si fa giova comincia tu dai cosa ne pensi a me piace da morire vi ripeto come dicevo prima lui mi sono emozionato perché mi sono ricordato il rumore della moto di mio pappo di quando ero bambino è bellissima a me non piacciono le custom ma quella io la trovo veramente bella mi piace proprio tanto la linea quella sella ci stava alla grande lui grande prova ci ha raccontato come gli piace mi darla come si sente in quella foto e di come ci è arrivato quindi è esattamente quello che vogliamo sapere grazie che vuoi come basta e io cosa vi devo dire ragazzi con la guzzi ma perché tu hai avuto delle guzzi no ho avuto la guzzata ma davvero ma incredibile no ragazzi nevada per me ve l'ho detto è stata la prima moto entrata in famiglia per me nevada è stata l'entratura del mio primo l'entratura sì certo l'italiano e ho avuto invece l'uscitura sì l'uomo che usciva la gente la nevada prima serie però che era quello un pochettino più arquato più custom stile vecchio comunque il motore per me era lo stesso che so dire mi piace un sacco è bellissimo Gaia? a me non mi è piaciuto la moto no non la moto non lui mi stava proprio sul cazzo no colorino non mi è piaciuto il cambio a un 25.000 moto i stradali te volevi che tenesse più tipo un Ducati panigare sì tenete botta nella vita di un uomo ci sono altri momenti in cui si abboglia un po' più di rilassarsi di godersi il tempo che passa sei troppo giovane lo capirai secondo me secondo me non ha chiesto nessuno non ha chiesto nessuno non ha chiesto nessuno e con l'estremo si appunto diviniamo scusate secondo me tra l'altro la mia opinione è sicuramente molto interessante certo io sono molto arrabbiato con Moto Guzzi perché il marketing non fa più possiamo dire che ci fa il marketing di Moto Guzzi o lo stile che sceglie le strategie eccetera secondo me veramente topano veramente perché la nevada poteva essere evoluta la nuova 883 quindi rivolge i sei giovani quanta volta? non c'è più usata stanno sui 4.000 5.000 6.000 ma tengono un bando non lo so non ricordo però se loro l'avessero evoluta tenendola la verità è che non fanno più custom non fanno più custom Guzzi che deve fare soltanto le custom non fanno più custom per anni ha fatto solo custom se facevano un altro video basta segate tutte però voi sappiate che queste moto appunto si trovano delle cifre molto interessanti sono delle ottime moto come entry level per iniziare ad andare in moto facili di manutenzione robuste e facili da customizzare vedete in questo caso qui basta cambiare la sella e togliere 2-3 rifiniture inutili per farla diventare una moto molto bella ma se prendete le moto anche più rovinate anche più usurate potete tirarci fuori delle gran belle classic perché comunque la base sono d'accordo io però voglio aggiungere una cosa a quello che ho detto Ale è vero che non fa più custom Ale dispiace a me in generale la classe mi fa l'impazzire però non mi accadirei tanto sul marketing più che altro sulla strategia di Guzzi perché secondo me stanno facendo una strategia super vincente in questo momento super vincente non lo so vedremo vedremo che non li ha fatti fallire questo sicuramente 85 bus 7 le stanno vendendo un monte questa idea del classic dai bus 7 bus 65 diciamo che ti vengo in conto Giova ti porgo la mano porgi però mentre te la porgo ti dico anche che probabilmente due modelli avrebbero potuto tenerli cioè un California basta solo solo che California teneremo il California aveva senso che è anche più iconico e se non fossero se magari riuscivano a contenere come spese non è che vanno più toghi è che piangono più sul video no ma ragione gai non ne vendevano quindi ma ciò che ne vendevano però attenzione perché ne facevano troppo vecchie non classiche vecchie perché Harley è diventata per giovani anche cioè figa no no Harley è figa poi ti puoi piacere proprio no a California era una moto molto da Turing è diventata una moto molto da Turing però da una persona comunque si è fatta direi che possiamo chiudere questo video ringraziamo Nicola vi ricordiamo di mandarci i vostri video sulla mail marcociro6% punto org via we transfer in orizzontale vi aspettiamo giovedì prossimo in questa prova ciao madonna ciao